Oggi vi parlo degli importantissimi risultati definitivi raggiunti questa settimana dal Comitato Veggiano. Come vi ricorderete nel novembre 2012 abbiamo segnalato tramite fototecniche dei pericolosissimi fontanazzi lungo l'argine destro del fiume Tesna, ovvero l'atto paese di Veggiano. Nel luglio 2013 sono stati stanziati i soldi per sistemare questo problema e questa settimana è stato aperto il cantiere. Ricordiamo che questi fontanazzi erano tanti ed uno in particolare era particolarmente grosso e particolarmente maligno, diciamo, nel senso che scaricava una gran quantità di terra argillosa. Quindi si trattava di un pericolo reale e assolutamente da risolvere. Siamo assolutamente soddisfatti di questo risultato che abbiamo ottenuto. Sappiamo già purtroppo che al 99% i giornali locali non parleranno di questa cosa e se qualcuno ne parlerà, le parlerà in qualche tempo nel futuro, normalmente attribuendo implicitamente o addirittura esplicitamente i meriti a qualcun altro. Questo è molto fastidioso perché si ripete da tanto, però noi siamo soddisfatti lo stesso perché la nostra gente sa la verità e abbiamo la stima appunto della nostra gente. Intendiamo continuare su questa strada, ricordiamo che abbiamo ottenuto tanti altri risultati, i lavori lungo il fiume Tesina, i lavori parziali lungo il fiume Tesinella nel tratto di competenza del genio civile, eccetera. Quindi oggi siamo particolarmente soddisfatti.